Unass sul secondo paro, il tentativo del Napoli, arriva il gol di Verdi, il gol di Verdi ha segnato lui al 42esimo, Napoli in vantaggio, ha fatto tutto bene ad Amunass, grande discesa da parte del Franco Algerino in mezzo a tre uomini dello Zurigo e questa volta ha fatto la scelta. Infine, va il pallone al centro, arriva il 2-0 del Napoli, è stato un ass a goffiare la rete, è stato questo suggerimento per P.E. centrale.